Si ferma il cammino virtuoso della San Cataldese dopo le due vittorie consecutive precedenti. L'11 siciliano si è arreso in casa dopo la rete del vantaggio nel primo tempo che aveva in l'uso i tifosi Verdi Amaranto. Il Castrovillari, nella ripresa, è riuscito a rimettere in parità il risultato e poi ha ottenuto la preziosa e inattesa vittoria nei minuti finali di recupero. Così la squadra calabrese ha espugnato il salotto di San Cataldo con il risultato di 1-2, ottenendo tre punti fondamentali per la salvezza. Per la San Cataldese invece una sconfitta sorprendente, soprattutto dopo il primo tempo concluso avanti di una rete. Questi i risultati della ventitresima giornata del girone I di Serie D. Catania Mariglianese 2-1, Santa Maria Cilento La Mezzia Terme 3-2, Realla Versa Acireale 1-0, San Luca Città di Sant'Agata 0-2, Vibonese Locri 0-2, Trapani Canicatì 3-0, Licata Paternò 2-1, Raguse Cittanovese 1-0, San Cataldese Castrovillari 1-2. Per una classifica che continua a raccontare la marcia trionfale del Catania a 60 punti, Locri 46, Città di Sant'Agata 42, La Mezzia Terme 39, Licata 38, Trapani 35, Vibonese 34, Canicatì 32, San Cataldese e Santa Maria Cilento a 31 punti, Castrovillari Ragusa 26, San Luca Realla Versa 24, Acireale 23, Cittanovese 21, Paternò 18, chiude la Mariglianese a 14 punti.